sti o magari faremo alcune cosette nuove ad esempio io adesso sono ai che bucuro non l'avevamo ancora visitata c'era stata consigliata come una sorta di seconda chiabara e io adesso mi sto recando a vedere quelle che sono state un must have in questa vacanza ovvero mandrache su rugaia e animate sono state veramente tre catene da tanta roba nel frattempo sono arrivato all'animate guardate voi stessi quanto è grande se non sbaglio l'animate comunque parte come catena di vendita blu ray e cd come potete vedere dallo spam dei one piece red collector edition però dentro c'è un sacco di roba io infatti all'animate di hiroshima ho trovato diverse belle cosette soprattutto dice insomma qui adesso noi entriamo vediamo se riesco a farvi vedere un po di cosette allora una cosa bella è che la gente conosce tantissimo i gashapon ma voi non potete capire la moltitudine di gadget a volte che dice ma veramente li hanno messi come gashapon cioè il lettore di bancomat e le fermate della metro dei mini sushi dei dei chioschetti appoggia carte suica c'è veramente c'è il sud di voi pensate un oggetto e sicuramente c'è il gashapon di quella cosa l'altra alcuni sono dati anche fuori produzione tipo il nostro compagnatore aveva il gashapon della fermata della metro e funzionanti alcuni sono proprio funzionanti tipo sempre il nostro compagnatore ha un gashapon di un distributore di gashapon dove butta fuori dei gashapon ok quindi immaginatevi una cosa che vi dico che ho visto già nell'animate di hiroshima che probabilmente funzionerà così anche qua perché l'ho visto funzionare anche in altri posti e adesso per dirvi sono il primo piano se voi desiderate acquistare qualcosa dovete acquistarlo in questo esatto piano voi non potete prendere che so io adesso prendo questi manga prendo quello e vado su fino agli ultimi piani perché così intanto guardano no è come se andasse a rubare infatti fatto una mezza figuraccia perché io tranquillo come loro stavano negli ultimi piani in quello hiroshima e mi ha suonato come per dire tu dove stai andando mi erano minuti addosso in 3 4 cassieri e io ho detto no guarda portate pazienza sono un italiano stronzo non so come funziona che figura di merda quindi sappiatelo se venite qua quello che vedete in un piano compratelo nel piano stesso ci sono manga a tutto andare voi nominate un manga e qua sicuramente lo trovate senza un dubbio cose ovviamente che non sono neanche uscite da noi tipo le storie di ace di one piece disegnate da boici oppure lo spin off di chainsaw man parte 1 che l'hanno ancora usciuta noi il spin off di voluto qua spam del durade di one piece red e questa tipo una card di shanks da mettere sulla cover del telefono e anche di tutti gli altri personaggi senza contare che qua ragazzi trovate tutti gli art book che volete di giocatore che lo trovate anche un sacco di riste altra jump e di jump c'è veramente un sacco un sacco di roba questo ovviamente adesso siamo andati in secondo piano e qua penso che cominci anche tutto il repatto piaoi romance e compagnia bella oltretutto trovate anche un sacco di materiale per disegno c'è persino le tavolette grafiche copiche penne e penarelli poi guardate pazienza non sono esperto in materia questo è il terzo piano comincia già esserci più merchandise le diverse cose alcuni anime che non conosco nemmeno io c'è persino profumi ma ecco un esempio maglie di con pis naruto dragon ball un istomale ciao 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 ma non solo manga e anime perché come vedete anche harry pot ciao sto notando che vanno tantissimo gli stand acrilici sono una cosa veramente fuori misura vi sto vedendo comunque ci sono tutto anch'io ovviamente un'altra parte e poi al piano sopra abbiamo blu ray e cd di ogni tipo addirittura giusto noce ragun ball my hero un misto male sono anche case protettivi per dvd carte box pokemon questo ragazzi era l'animate di ikebukuro bene o male sono abbastanza copie incolla quindi una volta che avete visto uno si magari a qualche altra parte potete trovare qualcosina di più da un altro qualcosina di meno ad esempio personalmente ad iroshima ho trovato un po più cosettine non tante ma cosina lungi da questo posto magari da chi cerca esclusivamente figures perché ce ne sono proprio si contano sulle mani è più oggettistica piccoli gadget cose del genere artbook manga e punto blu ray e cd ora invece andiamo appunto all'altra punta del tridente che vi dicevo prima ovvero a surugaya a 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